Buongiorno, Dio vi benedica, il Signore è buono, sono contento di essere qua con voi, spero che anche voi siete contenti di essere qua, sembrate che avete tutta la barba bianca, però quella che abbiamo appena cantato mi ha toccato molto, perché Dio è un Dio che parla, è un Dio che comunica, non è un Dio di, diciamo, una cosa lontana, estranea a noi, passeggia in mezzo a noi, lui ha in mezzo alla sua chiesa, gli scrittori di Ebrei nel primo capitolo, quando lui esorta a questi fratelli che stanno passando un momento un po' delegato nella loro vita, inizia proprio la sua lettera, la sua lettera la inizia con la parola Dio, Dio che nei tempi passati ha parlato, ha parlato ai nostri padri in svariate maniere attraverso i profeti, in altri modi, in questi ultimi giorni ha parlato a noi con la sua ultima parola che si chiama Gesù Cristo, per il quale ha creato ogni cosa. Noi, come esseri umani, noi abbiamo la tendenza di, siamo abitudinali, siamo abitudinali, mi capite quando parlo, sì, mi guardate un po' particolarmente strano stamattina, sto parlando male, no, ok, però siamo abitudinali, hai capito? specialmente quando si tratta di funzione, di modi di fare, capito? Che non è male, avete dei buoni abitudini voi? Alcuni? Beh, avete dei buoni abitudini, vi svegliate a un certo orario ogni giorno o come capita? Come capita? Se è come capita sbagliate, solo se fate dei turni, allucinante, però se vivete la vita quotidiana, anche lavorativa, che lavora dalle 9 alle 5, alle 9 alle 6, quelle che sia, dovete avere un orario, dovete crearvi delle abitudini quotidiane, perché se non l'avete, quando leggete voi? Quando capita? O avete fessato un appuntamento per leggere, riflettere, ascoltare la voce di Dio? Non c'è? Se non c'è, fatelo, perché se no non cresci, se no non c'è, non c'è radice che va giù nel terreno fertile della parola di Dio. Se è tutto a caso, oggi sto bene, allora mi sveglio presto, domani sto male, allora non mi sveglio, hai capito? Mi sveglio all'aria di pranzo e mangio e poi di nuovo vado a dormire. No, dobbiamo crearci degli abitudini, però queste abitudini ci devono portare a un certo punto, dove noi li facciamo e li facciamo perché ci fa crescere, però a volte succede che anche nei nostri culti diventa un'abitudine, diventa un'abitudine, veniamo, noi sappiamo, c'è la lettura, ci sono i tre canti, poi c'è la predica, poi c'è un altro paio di canti, poi c'è l'offerta, poi c'è la santa cena, poi si va a casa. E se non è così, chi predica o chi, se è il pastor Giovanni o se è un altro, è messo alla riga e dice ah, è predicato troppo. Ma quando ti può parlare Dio allora? Se non adesso, quando siamo qua, capite che abbiamo, diciamo, ritagliato questa paio di ore di tempo per stare con il Signore, però non vediamo l'ora che finisci. perché dobbiamo venire in orario, perché se no si brucia il sugo, se no i nostri ospiti li devono aspettare, se no i nostri bimbi diventano i riquieti, hai capito? È tutto il resto. E noi a Dio l'abbiamo dato dalle dieci a mezzogiorno, domenica. Eppure abbiamo la preoccupazione che se non finiamo in tempo, hai capito? Qualcosa succede, allora anche quello influisce come noi ascoltiamo. Capito? Non è una ripresa questa, non è riprensione. È solo di farti riflettere, dobbiamo riflettere. Perché, come ho detto, se noi dobbiamo conoscere Dio, ci vuole del tempo. Se noi vogliamo avere del successo, ci vuole del tempo. Il vero successo, quel successo che viene da Dio, quel successo che quando ti svegli la mattina, hai capito? Anche se il mondo è in rovina, tu sei tranquillo. Come dice il profeta Abba Cook, no? Che per me è il profeta eccezionale per il successo. Dice, anche se l'olive non dà il suo frutto, anche se il fico non dà quello che dovrebbe dare, anche se il bue e tutto ciò che nella sala non c'è più, a me non mi interessa. Non mi interessa, perché io ho il Signore. Hai capito? E questo deve essere il nostro atteggiamento, quando noi veniamo nel culto, veniamo negli studi, quando siamo a casa. Hai capito? Io capisco la ragione, capisco la ragione perché. Però il pastore Giovanni ci ha dato una lettura, come si chiama? La lettura blitz? No, quella, ah, sprint. Magari fosse, sai che cos'è il blitz? Che cos'è il blitz? Proprio quando tu, magari fosse una lettura blitz, che noi afferriamo e leggiamo, e leggiamo chissà quante della scrittura, che l'assorbiamo, una lettura blitz. Però la lettura sprint ci ha di far capire che, ragazzi, allora se ci mettiamo la lettura sprint, allora sprint siete, siete, hai capito? Allora quando vengono i guai, hai capito? Sprint cade subito, cade subito, perché hai fatto lettura sprint. Capisco la ragione, capito? Perché siamo presi. Però, Salomone, disse così, se non mi sbaglio, capitolo 2, versetto 8 o 10, da capitolo 2, dice, lui parla alla sposa, lo sposo parla alla sposa, vieni via, vieni via, lo sposo oggi sta dicendo a te, vieni via, mettiti da parte, e impara il segreto, di essere cambiato, di essere mutato, di vivere una vita di successo, vieni via, noi abbiamo questi attimi qua, facciamoli pieni, non abbiamo fretta, non aver fretta, che termina la riunione, o che termina l'incontro, così possiamo fare poi le nostre cose, questi sono le nostre cose, queste sono le nostre cose, se non è così, se non è così, siamo inguaiati, capito, veramente, e il successo non l'abbiamo capito, oggi infatti, vi parlo del successo, non ho visto la cosa, com'è la locandina, scusami, parliamo del successo, oh, però, pure i pandalongini già, bellissimo, ho dato da leggere questa volta, ho dato da leggere, e non so, chi di voi studia la Bibbia, o che la studia, diciamo, a livello proprio di studio, avete notato, che io ho preso, ho preso, da quattro diversi tipi di lettura, ho preso dagli profeti, ho preso la poesia, ho preso la lettura di saggistica, e anche, alla fine, una narrativa, dove c'è il racconto, è perché Dio ci parla in tanti modi, ci parla proprio in tanti modi, ci parla attraverso la poesia, ci parla attraverso i profeti della scrittura, e oggi vogliamo leggere questi qua, li leggiamo poi ognuno a suo tempo, e vogliamo vedere che cosa è successo, allora, già questa parola qui, questa parola qui, se io vi chiedo adesso, che cosa vi è suscitato nella testa? Potete parlare, vai. La parola successo, cosa vi è suscitato nella testa? Solo vedendo la parola, la ricerca del successo, che cosa vi è suscitato nella testa? Raggiungi un traguardo, non ci pensate proprio, solo lui pensa, ricchezza, ricchezza, vai, potete pure dire le cose che pensate, che veramente non volete dire, perché sennò sembrate che siete carnali, è quello il fatto? Soldi, soldi, come si chiamano quei quiz? Essere famosi, essere famosi, essere miliardario, chi li guarda quelli? Nessuno? Solo io li guardo, ok, ok, però vedi, se noi guardiamo il successo, e poi c'è anche il lato, il lato spirituale, c'è il lato spirituale, che è il successo spirituale? Conquestare le anime, fa crescere una chiesa, memorizzare 300 capitoli della Bibbia, parlare a ogni persona che avete di Gesù, avere la Bibbia grande, così tutti sanno che io so credere, e che c'è, come si chiama quella cosa intorno alla testa? Dove io cammino, radio luce, 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 successo spirituale, c'è anche quella parte lì, ok, c'è un successo che, evoca tanti pensieri nella nostra testa, il successo, essere una brava mamma, essere un bravo marito, essere una brava coppia, capito? Cioè, ci sono tante cose, tante piccole cose, perché, purtroppo, la parola successo oggi, ha preso questa piega, di avere soldi, di avere un nome, di avere un nome, di avere tante ricchezze, di avere comando, della situazione, della situazione delle persone, e purtroppo, purtroppo, è diventato una meta, è un traguardo, come ha detto il nostro fratello Elias, è diventato un traguardo, di raggiungere, proprio una cosa, io devo avere, sembra che se tu non fai qualcosa, di spettacolare, che è a note a tutti, non stai facendo nulla, e questo succede pure nella comunità di fede, questo non significa che dobbiamo essere nell'ozio, si dice ozio? Capito? È adagiato, però, questa ricerca di essere, avere un nome, di avere qualcosa che viene riconosciuto, uh, guarda lui, lui è così, 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 e a volte questo entra dentro di noi, e ci prende, ci prende, ci prende in un tal modo, che poi non riusciamo a scrollare da d'ossa, ok? Allora, io vi voglio leggere, voglio leggere a voi, per voi, Geremia 45, non so chi di voi conosce Geremia, l'avete letto, sicuramente l'avete letto, perché so che qui si legge la scrittura, anno dopo anno, e sicuramente l'avete letto, questa è una promessa fatta a una persona, che si chiama Baruch, Baruch sai chi era? sai che cos'era Baruch? Era uno scriva, era uno che, scriveva ciò che lui veniva detto, era un amico, pure, intimo, di Geremia stesso, ok? A questo punto qui, che è nel libro di Geremia, guarda come Dio si preoccupa, delle persone, perché Baruch, aveva preso una strada un po' particolare, e parlando del successo, ok, Baruch, qua, Dio parla a lui, e dice, la parola, 45, sono 5 versetti, ve la leggo tutto, la parola che il profeta Geremia, rivolse a Baruch, figlio di Niriah, quando questi, scrisse queste parole, in un libro, sotto la dettatura di Geremia, nell'anno quarto di Jehoachim, figlio di Josiah, re di Giuda, dicendo, così dice l'Eterno, il Dio di Israele, a te Baruch, direttamente a lui parla, ok? Tu dici, guai a me, perché l'Eterno aggiunge afflizione al mio dolore, io sono stanco di gemere, e non trovo riposo, così dirai a lui, cosa dice l'Eterno? Ecco, io dimolerò ciò che ho edificato, sradicherò ciò che ho piantato, cioè tutto questo paese, e tu, questa è rivolta a lui, e tu, cercheresti grandi cose per te, non cercarli, perché ecco, farò venire del male sopra ogni carne, dice il Signore, ma a te darà la tua vita come bottino, in tutti i luoghi dove tu arrivi, andrai, ok? Ho scelto questo qui, proprio per farci vedere, a questo punto qui, Geremia sta profetizzando, il popolo di Israele, sono oltre vent'anni, ok? Lui iniziò, la sua predicazione con il popolo di Israele, dice la scrittura, nel primo capitolo del libro, dice che lui iniziò il tredicesimo anno di Giosia, Giosia iniziò a regnare quando aveva otto, allora qui significa che Giosia aveva ventun'anno, e qua ci troviamo, hai capito, è il quarto anno di, il nipote di Giosia, o il figlio di Giosia, come ci dice la scrittura, è il quarto anno di sua, Giosia morì a 39 anni in guerra, ok? Allora da 21 a 39, 18, 4, 22 anni, Geremia stava predicando già 22 anni, un ministero di successo? Ha avuto successo Geremia? E dipende dal punto di vista, ha stato buttato nella cisterna, ha stato minacciato di morte, ha stato preso a schiaffi, ha stato diriso, è stato accusato di essere un traditore del suo paese, di tutto e di più. A questo punto qui, che succede? In questo anno qui, in quest'anno qui, Dio parla a Geremia e dice, scrivi nel rotolo, scrivi un rotolo, scrivi quelle che io ti dico, metti un rotolo, e valla a leggere il popolo di Israele, questo è il quarto anno. Questo la puoi trovare pure, perché Geremia non è consecutivo, come libro, allora salta un po', salta un po', ok? E si vede che qui, durante questi tempi, Dio dice a Geremia, scrivi in un rotolo, valla a leggere il popolo, e poi ci penso io, ecco si fece, Baruch, a questo punto qui però, che succede? Se tu lo leggi in capitolo 36, lo vedi, nel quarto anno, lui va a leggere il rotolo, e il popolo risponde, 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 e lui, 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 a questo punto qui, sperimenta ciò che significa la potenza della parola del Signore, quando viene letta e meditata in mente del popolo, di proclamare un digiuno, nel quinto anno, di proclamare un digiuno, e a quel punto lì, va detto al re, che è Gioia e Chim, a quel momento lì, oh, qua sta succedendo qualcosa, c'è lo scriva di Gerabia, sta leggendo il libro, e qua sta succedendo qualcosa, il popolo sta succedendo, sta reagendo a questa cosa, hai capito? Perché avevano programmato il digiuno, e sembra che andava positivamente la cosa, e secondo me, che è successo? perché poi, essendo come essere umani, come diciamo, questa è la concettura, però, visto che la parola di Dio è detta così a lui, visto che la parola di Dio è detta così direttamente a lui, Baruch ha detto, ma, io sono il scriva del profeta, sono stato io a leggere la parola, sono stato io a essere testimoni degli avvenimenti in mezzo al popolo, sono stato io, e Dio in un attimino l'ha ripreso, ha detto, non cercare le cose grandi per te stesso, è il momento questo, quel paese è in ruina, il paese viene per essere sradicato, e tu ti stai cercando qualcosa di grande per te stesso, stai cercando il successo, stai cercando, perché ha visto che ha avuto potere, e infatti poi, il successo, se posso, a questo punto qui vi posso dire questo, sto cercando di essere ordinato, perché non voglio che, questo lo percepite, lo dovete percepire, portatevelo a casa, ok? Il successo, ci sono tre cose, sono tre cose che il mondo qui, insieme a Baruch, stavano vedendo, sono tre cose nel successo che c'è, il lato mondano e il lato spirituale, cioè la sicurezza, la sicurezza, che cosa è la sicurezza? Cosa è la sicurezza? la stabilità, capito? Uno che, ti ricordi, ti ricordi il ricco, lo chiamiamo ricco stolto, sai perché? È diventato stolto, ok? Il ricco stolto, che aveva? Era già ricco, era già ricco, aveva tanti terrestri, si occupava di terrestri, ha avuto una grande raccolta, fino a quel punto lì, fino a quel punto lì, stava a posto lui, e quando ha iniziato a ragionare, ah, io ho tutta sta roba adesso, mo mi butto giù le cose, mi costruisco là, perché poi mi posso dire, sicurezza, mangia, bevi, che domani, capito? Quella sicurezza, aveva i soldi, aveva tutto, non c'era problema, si poteva provvedere per se stesso, ok? Questa è la sicurezza, questa è la sicurezza, e chi di noi non piace la sicurezza? E il successo è qui, porta qui la sicurezza, il potere, la sicurezza, il potere, il successo ti porta potere, vero? Cioè, uno che ha successo a potere, a potere su ciò che lui ha, a potere poi anche sugli altri, a potere sugli altri, è questa a noi, questa a noi alletta, ha letto avere potere sugli altri, ha letto a noi avere potere sugli altri, e questa anche spiritualmente, dobbiamo stare attenti, noi non siamo Dio, non siamo Dio, anche se siamo il più dotato, tra i figli di Suoi, siamo sempre figli, non siamo Dio, capito? che questo ha letto molto, il potere sulle persone, ha letto molto, noi sai che potere dobbiamo avere? Noi dobbiamo avere, dobbiamo bramare come potere, è il potere con Dio, ti ricordi Giacobbe? Giacobbe quando lottò, tutta la notte, tutta la notte lottò, oh, bello quello suono, bellissimo, Giacobbe lottò tutta la notte, e lottò con l'angelo, e l'angelo lo dice, ah, non dobbiamo più, Giacobbe, come ti chiami? Israele, perché tu hai lottato con Dio, e hai vinto, tu lotti con Dio? La tua sicurezza dov'è? La tua sicurezza dov'è? E' in questo? E' in tuo lavoro? Nella tua casa? Nelli tuoi investimenti? In quelli che ti circondano, e dov'è la tua sicurezza? E dov'è il tuo potere? Su che cosa hai potere tu? Sulle persone? Ho il potere con Dio, che quando tu ti incinocchi, davanti al trono di Dio, il nemico trema, e Dio ha piacere, e dice, ah, grazie che ti sei presentato, lui ti ringrazia a te, che ti presenti, perché ti sta aspettando, e lui vuole che noi abbiamo potere con lui, e l'altra cosa è il piacere, questi sono i tre segni del successo, queste cose qua, successo, successo, sicurezza, potere, potere, e il piacere, il piacere, i soldi, dicono, i soldi non comprati la felicità, però poi il ricco ti dice, però è bello averli, perché mi posso fare quelli che mi pare, mi vado al ristorante, mi faccio la vacanza sulla nave, mi compro la macchina grande, mi compro i vestiti di 600 euro, o le scarpe di 1000 euro, hai capito? un pallone d'oro, hai capito? Per ilis, hai capito? Hai capito? Piacere, 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 piacere. Queste sono le tre cose del successo mondano, hai capito? tutti li guardi, tutti li guardi, tutti li guardi, e vedi che questo è lo scopo delle persone, a livello mondano, questo è lo scopo, queste tre cose qua, sono l'apice, ok? Il piacere del credente qual è? E non mi fatti spirituale, so che, che cosa è il tuo piacere? mamma mia, stare in chiesa no, almeno quello, però che altro è il tuo piacere? No? Veramente, pensateci, cosa vi dà piacere a voi? l'ultimo giocattolo che ti sei comprato? Il salmista dice, nella tua presenza, c'è abbondanza di gioia, alla tua destra, sono edilizie in eterno, ragazzi miei, è un piacere appartenere a Gesù, è veramente un'edilizia, è stare con lui, vedi? Vedi, sono entrambi, noi camminiamo parallelmente, con queste tre cose del mondo, e molto spesso queste tre cose, che il mondo ricerca come successo, ci vengono proprio, come si dice, ci sovrabbondano, talmente tanto, che ci infettano anche a noi, e noi, anche inconsciamente, capito, seguiamo, seguiamo, quell'andazzo, quell'andazzo, che non è peccato avere cose, non è peccato, è sperimentare piacere nella natura, sperimentare piacere in qualcosa di nuovo, che hai comprato, per carità, non dobbiamo essere persone mesti, è così, però se non l'avessi, veramente, chiediamoci questo, perché noi siamo stati imboccati, nella modernità, specialmente nell'Occidente, negli ultimi 30 anni, specialmente, 40 anni, con il messaggio di prosperità, Dio ti vuole benedire, il suo chiesto è essere benedetto, avere l'anello d'oro, il vestito d'oro, chiese grande, a destra e a sinistra, hai capito, la chiesa deve crescere, 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 infatti ci sono interi movimenti, di prosperità, e crescita, e se non è così, non sei successo, non sei niente, è semplice stare con Gesù Cristo, come a Maria, stare ai suoi piedi, e trovare piacere nella lettura, e trovare piacere nel rapporto con i fratelli, e trovare piacere, e solamente stare in silenzio, per quel quarto d'ora, che stai prima di andare al lavoro, e stai lì, zitto, non indaffarate che fai ritardo, però zitto davanti a Dio, e dicendo, Signore, che bello appartenerti, grazie che mi hai reso successo, grazie che mi hai dato questo successo, Signore, grazie che me l'hai dato tu, grazie che me l'hai dato tu, grazie che me l'hai dato tu, e invece, che facciamo, molto spesso, che facciamo, vedi, i discepoli, i discepoli, in capitolo 22, di Luca, che non ve lo leggo, questo ve lo faccio leggere a voi, sai che sta succedendo, a quel momento lì, che sta succedendo, a quel momento lì, quella è la Santa Cena, è durante la Santa Cena, è a quel momento lì, per la seconda volta, che ci viene detto, nel Vangelo di Luca, la seconda volta che lo fanno, c'è la lite, fra loro, di chi è più grande, Gesù l'ha appena detto, c'è appena, vedi, perciò, noi, noi, se loro avevano la presenza di Cristo, e ci sono le cascate, quante di più noi, quante di più noi, dobbiamo stare attenti, lottavano già, ancora, chi è il più grande, fino all'ultimo momento, perché è forte, è nata in noi questa cosa, questo desiderio, di lasciare un segno, di essere grande, e invece, Gesù disse, che gli disse? Dice, guarda, sono solo, sono solo i governanti, sono solo quelli che, che esercete, regnano su di voi, che vogliono i sogni, periggiare su di voi, che non hanno il vostro interesse, a cuore, però io non sono stato, in mezzo a voi, come unica signore, sono stato, in mezzo a voi, come? Come unica serve, infatti, in Giovanni capitolo 13, che è dove inizia, proprio l'ultima serata, del Signore, che bellissimo, Gesù, fa l'ottimo, fa proprio, fa proprio, quel gesto di servitù, quel gesto di successo, del suo ministero, a dove si spoglia, si spoglia, si lascia solo le motande, si lascia solo le motande, perché gli serviti, non avevano niente, gli serviti, non erano rivestiti, avevano solo quella cosa, intorno a sé, che sembrava, che sembrava, un pannolone, perché loro, non erano degni, di essere rivestiti, erano nudi, e dovevano lavare i piedi, da quelli che entravano, in casa loro, del loro, del loro patrone, Gesù si è spogliato, se vogliamo, si è denigrato, perché, Paolo lo dice, noi l'abbiamo tradotto, la nicchili, si è nicchili, dimmi la parola, un'altra parola, un'altra parola, italiano, si è abbassato, si è annientato, si è annullato, si è fatto zero, ha avuto successo, Gesù? Ha avuto successo, Gesù? A livelli del mondo? A livelli del mondo, ha avuto successo, Gesù? Non penso, a livelli del mondo, no, per noi sì, perché il suo spirito, il testumone, il suo spirito, che noi apparteniamo a lui, e che a lui è risorto dai morti, questo è successo, e noi dobbiamo, dobbiamo veramente controllare, i nostri, i nostri pensieri, i nostri desideri, e dobbiamo veramente affondare, e affondare il nostro andazzo, con il Signore, veramente, su abbassarci, sul servizio, su non cercare la mia gloria, come Baruch, di non cercare di essere io al primo posto, sempre, vincere, 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 c'è la competizione fuori, guarda, è spiatata, la vede nel mio piccolo lucro al lavoro, con gli insegnanti, siamo 4 o 5, no dai, tu hai più lezioni di me, ma piglia, io le dico, dagli all'oro, e che ti guardano strano poi, e dice, come, non li vuoi tu, dici, dagli all'oro, se si deve arrabbiare, che me ne importa a me, dagli all'oro, se li deve avere nemici, che ne ho più, dagli all'oro, preferisco non averli, tu lo dico su seria, e non è un vanto, però c'è una competizione, spiatata, spiatata, e lascia perdere in fabbrica, e in fabbrica è ancora di più, e lascia perdere lo sport, quanto ce n'è nello sport? ragazzi, capito? Come i discepoli, noi, noi non dobbiamo leticare, di chi è più grande, di chi è il migliore, Dio sa, ricordate Nino stamattina, Dio dà i doni, apposta, a ognuno di noi, per compiere, quelli che Dio vuole, che noi dobbiamo fare, quelli che dobbiamo fare, Dio ci mette il dono per farlo, è quella la spinta che Lui ti dà, questa è, poi c'è il Salmo 1, Salmo 1, il Salmo per eccellenza, lo conosciamo tutti, Beato l'uomo, Beato l'uomo, eccolo là, che non cammina secondo il Consiglio degli Empi, che non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia dei schienitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, il diletto è il successo, il diritto è qualcosa che io mi compiace, più di ogni altra cosa, e qua, e qua, la parola Beato significa felice, voi siete felici, se facciamo questo, dovremmo essere felici, che è quella che significa la parola, felice, è quella legge, la medita giorni e notti, nel cattivo tempo e nel buon tempo, sia quando ha buio nella vita, sia quando c'è luce e sole raggiante nella tua vita, tu mediti la scrittura, mediti la sua parola, perché la scrittura, come ci è stata ricordata, ci illumina, ci dà luce, ok, e del resto, egli sarà come l'albero piantato vicino ai roscelli, i quali dà il suo frutto, nella sua stagione, e il cui fogliamo non appassisce, ok, e tutti quelli che fa, prospererà, ok, tutti ciò che fa, quelle basi così, tu non puoi fare almeno che avere successo, è successo secondo Dio, ok, però c'è una cosa qui, non ti leggo il resto, non ti leggo questa parte, le ultime tre visite, non ti leggo, perché a noi non ci appartiene, non ci appartiene, se facciamo quello, nel senso che, se fa parte di noi, non che se lo facciamo, nel senso che ci addopariamo, però se fa parte della nostra vita, quelli tre lì, le ultime tre, le ultime tre versette di Salvo, non ti appartiene a te, non appartiene ai figli di Dio, quello appartiene agli empi, gli empi, quelli maivaggi, e io spero che non ci troviamo con loro, ok, allora, qua, c'è una cosa però, c'è una cosa, Geremia, Geremia, pesca questo Salmo, io penso che è fatta così, Geremia, circa, circa, mille, mille, quasi, quasi 400 anni dopo, sicuramente, Geremia leggeva i Salmi, leggeva le scritture, e lui pesca questo Salmo, lo pesca, lo va a trovare, è lucita, in capitolo 17, del suo, se me lo metto qua, capitolo 17, versetto, versetto, 7, se me lo metto qua, così, così, così lo posso, te lo leggo da qui, 17,7, per cortesia, ok, se tu lo vai a vedere, lui lo pesca qui, però cambia qualcosa, ci cambia qualcosa, eh? E questo è sempre sotto la, 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 che è? S'ha persa Geremia, poverino. Uh, bello grande. Yes? Yes? Eccolo qua, benedetto l'uomo, notate il cambiamento, Salmo 1, che ha detto? Biato, ok, biato, questo è successo, ok, qua ti parla veramente del successo, questo è l'uomo che è arrivato, questo qui, lui è arrivato, non è felice, non parla di felicità, questa benedizione, benedetta è proprio quella che dice, detto beno di, detto bene dell'uomo, che confida nel Signore, la cui fiducia, non leggete una parola che non c'è, non leggete la parola che non c'è lì, lì non c'è in, non c'è in, qua, non c'è in, che differenza c'è per avere la fiducia, che la tua fiducia è, è il Signore, e la tua fiducia è nel Signore, che differenza c'è secondo voi? c'è una differenza? Ti toglie tutto il tuo fare, perché io posso esercitare la mia fiducia nel Signore facendo certe cose, qua è lui e basta, è lui e basta, benedetto è l'uomo, detto bene dell'uomo, il cui Dio ha la sua fiducia, non è stante tutto ciò che, perché devi ricordare il contesto di Geremia che stava vivendo, e perciò lui non ha detto felice è l'uomo, perché lui non era felice, Geremia era il profeta che piangeva, Geremia era il profeta che non ce la faceva più a stare in mezzo al suo popolo, Geremia era colui che era triste, tutti i giorni e tutte le loro, era triste, non poteva dire, biate, biate, felici voi, non erano felici, venivano ammazzati, si mangiavano i loro figli, si bevevano le loro urine, capito? Vai, erano sotto assiedio, non erano felici, però era benedetto l'uomo che confida nel Signore, la cui è fiducia, è il Signore, non nel Signore, diverso, 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 qua la parola benedetto significa inginucchiarsi davanti, allora le persone, una persona così, sai che fanno? le danno in referenza, si inginocchiano davanti a te, perché riconoscono che in te c'è qualcosa, che loro veramente bramano, che loro veramente non hanno, benedetto l'uomo, invece Salmo 1, buono è, però vedi lo Spirito Santo, 400 anni dopo, ci mette questo giro, perché poi vai avanti per cortesia alla prossima, e poi lo vedi, qui pesca proprio, a ok, chi ti ha un problema qui? sì, mi dispiace, perché mi piace che si vedi là, eccolo qui, lo può abbassare? Quella cosa sopra lì? Allora ve lo leggo io? la fiducia del Signore, egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume, non si accorge quando viene la calura, e il suo fogliame rimane verde nell'anno della siccità, non è in affanno, e non cessa di portare frutto, ok? Lì pesca Salmo 1, lì pesca Salmo 1, vedi? E se vedi, e se vedi, e vedi, lui, l'uomo di successo, per Gerebia, non evita, o non è immune alle prove, si trova proprio in mezzo alle prove, si trova, e dice, non se ne accorge, non lo sa, non se ne accorge quando viene la calura, quando viene quel calore che brucia le foglie, capite? Perché l'ha visto mai? Che è stato un paio di anni fa, o due o tre anni fa, che c'è stata quella siccità che sembrava che le foglie erano così, su tutti gli alberi, perché non c'è stata acqua, capito? Tutti gli alberi erano tutti arricciti, perché non c'era acqua, l'uomo di successo, l'uomo che sa, veramente, appoggiarsi sul suo Dio, l'uomo che veramente sa, chi è il suo Dio, non se ne accorge, non se ne accorge, nell'anno della siccità, non è in affa, non si intressa, non è che è lì così, che deve fare, che deve fare, aiutami, 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 questo è il mondo religioso, capite? Il mondo religioso, che ride, infatti, ride quando tutto va bene, è tutto va bene, però appena succede qua, che guai, che uuuu, aiutaci, che ti facciamo, Gesù Cristo mio, Gesù Cristo mio, hai capito? Che prendiamo il bene dal Signore, non il male? ok? Allora dice, in affa, non cessa di portare frutto, portiamo frutto, anche in quel momento lì, ok? Allora, l'ultima parte, e poi fai, quanti tempi manca? Quanti tempi sono? Che ora sono? Vi siete d'accordo? È passato il tempo, non vi è addormentata, poi finisce, Laura, tieni a bada i figli, ok? Io lo so, ok? Tiena a bada, oh, be good guys, otherwise I'll beat you up after, ok? Don't do anything bad, ok? All right, ok? Parlo un po' di inglese, ok? Guardiamo i proverbi, questa è l'applicazione, questa è l'applicazione, questa ci appartiene, ok? Come mettiamo in atto tutte queste cose? È il libro di proverbi, è atto, è proprio adatto per questa cosa qui, ci dà l'applicazione dell'uomo di successo, se tu leggi, dei proverbi, lo leggete i proverbi, io vi consiglio di leggere un proverbo al giorno, è alla fine del mese in ha letto tutti quanti, e lo leggi tutti i mesi, è alla fine dell'anno in ha letto 12 volte, che ti aiuta, ti aiuta con il rapporto quotidiano con i tuoi colleghi, con i fratelli, ti aiuta, perché ha molta saggezza, hai capito? Per il rapporto quotidiano, hai capito? Perché, ricordati sempre, ricordatevi sempre, siamo esseri umani, non abbiamo le ali, vedi? Non ce l'ho qua, siamo esseri umani, viviamo sulla terra, metti tutti i due piedi qua, hai il rapporto con gli altri, guardali in faccia, capito? Ricordatevi, quando hai sbagliato, ho sbagliato, quando hai fatto il bene, zitti, ok? Quelli ti insegni i proverbi, ok, guardiamo qua, guardiamo qua, ok? Allora, capitolo 16, no, scusa, capitolo 19, versetto 16, io me lo so scritto qua, dice, ve lo leggo, questa è bella leggere, chi osserva il precetto, preserva la sua vita, ma chi non si dà pensiero, della condotta, mor, detto a modo mio, chi è a pietà del povero, presta l'eterno, che gli conta e cambierà, l'opera buona, bella questa, castiga il tuo figlio, aspetta, l'ho letta sbagliatamente qui, alliscia il tuo figlio, dice qua, castiga il tuo figlio, poi ci arriviamo, mentre c'è ancora speranza, ma non lasciati andare, fino a farlo morire, l'uomo dalla colera, violenta, deve essere punito, perché se lo liberi, dovrà tornare da capo, ascolta il tuo figlio, ascolta il consiglio, e riceve le istruzioni, affinché tu diventi saggio, per il resto della vita, ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore, è quello che sussiste, ciò che rende, rende caro l'uomo, è la bontà, è un povere, va al più di un bugiardo, il tumore dell'eterno, conduce alla vita, chi lo ha, si sazia, e passa la notte, senza essere visitato dal male, in altre parole, dormo proprio, tranquillo, ok, qua ci sono sette, sono sette applicazioni, sono sette, perdonatemi se mi allunga, però, sono sette, non ve le spiego, ognuno ve le elenco e basta, ok, ve le elenco e basta, va bene, qualora sono? 54, oh, è presto, io pensavo era quasi mezzogiorno, e allora, 11 e un quarto, abbiamo ancora due ore, hai capito? Allora, io l'ho chiamato, queste qua, queste applicazioni, sono l'essenziale di una vita di successo, questi sono gli ingredienti essenziali, hai capito? Se noi ricerchiamo quelle cose lì, di sicurezza, potere, piacere, questi sono gli elementi per averli veramente spiritualmente, senza abusarmi, la prima è, che è importante questa, che ci viene detto due volte in questi passi qua, la prima è ascoltare, ascoltare l'istruzione, sai che significa ascoltare l'istruzione? Che significa ascoltare l'istruzione? Allora, c'è questa idea qua, allora, mi ricordo, Vincenzo, di mio figlio, Anna, vai pulire la stanza, va bene papà, vado, Vincenzo, perché non ha pulito la stanza? Oh, abbiamo iniziato, poi abbiamo visto il libro, abbiamo fatto questo, e non l'abbiamo finita. Portare a termine, ascoltare, significa ascoltare, percepire, e poi portare a termine quelli che ti è venuto detto, ok? Questo è importante per una vita, ascoltare, ascoltare, come lo dice? Lui dice, chi osserva il precetto, chi osserva, perché è osservare, ascolto, e metti in atti, osservare, ascolti, e metti in atti, ascolto e metti in atti, quella è la prima, no? Poi dice, la seconda dice, che poi vai versetto per versetto, versetto dice, e dice, chi ha pietà del povero, presta al Signore, dobbiamo avere pietà delle persone intorno a noi, però, però ti dico una cosa qui, io ho fatto il barbono per sette giorni a Bologna, sette giorni ho vissuto nella stazione di Bologna, la stazione dei treni, sette giorni, capito? Notte a giorni, mi sono cresciuto la barba, i capelli, avevi i capelli lunghi come i tuoi, capito? la barba più o meno come quella di Elias, capito? E sono state le idee, sai una cosa, i poveri, non ti vede nessuno, era invisibile, la gente ti passavano davanti, non ti guardavano, non ti consideravano neanche, e poi sai che facevano? Stavano seduti davanti a te, e dicevano, figlio mio, vieni qua, perché chi è là? Sai chi è? Ti parlavano male proprio di fronte, perché non ti consideravano, e molto spesso i poveri, noi, non li vediamo, perché siamo indaffarati, abbiamo i parocci, guardiamo solo a noi, i nostri, non ce li abbiamo. questa domanda, come si chiama il tuo amicino di casa? Quanto hai figli di te? Che problema ha la moglie, il marito? C'è un nonno malato? In ospitale? C'è bisogno di qualcosa? Lo sai? Devi più trovare il suo appartamento, ci puoi aiutare? Sono domande da farci, viviamo, viviamo, osserva, osserva, siamo gentili con i poveri, poi la terza, che questa è quella che va a farti ridere un po', dice castiga il tuo figlio, quella parola castigare, disciplinare, non significa solo di riempirli di botte, capito? No, no, e neanche di urlarli come niente fosse, aaaaaa, quello non fa niente, tipo immaginate il nostro padre eterno che ci sgrida in quella maniera lì, così, no, ja, disciplinare, significa indrizza, indrizza il tuo figlio, lui, lui prenderà da te, quelli che è importante a te, quelli che è di lui, se non è importante a te, che lui sta zitto durante la ruidione, e che sta seduto, composto, allora non è importante a te, non è importante a lui, però se è importante a te, che lui sta seduto, vicino a te, dice, ma un piccolino, che c'entra? Gesù ha dodici anni, ha confond... come si dice, ha conf... ha dodici anni, ha confrontati, i maestri, e i nostri dodici anni, che fanno? Perché? Perché l'abbiamo comprato i cellulari, è sbagliato a comprare i cellulari? No, non è sbagliato a comprare i cellulari, però è sbagliato l'uso, e dire di no, non è andato male a nessuno, a dire di no, e forzarli, forzarli se devi, a stare seduti, scusa, non saranno sempre piccoli, saranno grandi, e quando sei grande, non ti puoi alzare la bollità, ma immaginate tu, canine si mette qua, e si mette a correre davanti e dietro qua, a 50 anni, perché è abituato a così da bimbo, no, uno dice, no, ma è cresciuto, ha capito la cosa, però, noi dobbiamo arrivare lì, iniziamo da piccolo, ok? Questa si vede, nella famiglia di fede, nella famiglia, nella famiglia di Dio, si vede questa cosa, che noi, le cose importanti a noi, le cose di Dio, le cose di successo, le cose che, che veramente ci elementano, le trasmettiamo ai nostri, figli, queste idee di piacere a Dio, in ogni cosa, anche a stare seduto, anche a ascoltare, come ti puoi aspettare, che loro si interessi, nella parola di Dio, se noi, quando viene predicato, quando viene insegnata, noi li facciamo correre, perché loro non riescono, no, allora, invece di, farle correre, dici, guarda, ti toglie la tua attenzione, non l'attenzione di tutto il resto, e ti dedica a tua via, e dici, sienta papà, sienta papà, siediti qua, perché il pastore Giovanni, ci sta dicendo una cosa importante, e noi dobbiamo ascoltare, quello che ci dice il pastore Giovanni, perché è importante, anche quando andiamo al culto, noi ci svegliamo prima, la domenica, figlio o figlia, sai perché? Perché è importante arrivare in orario, che non arriviamo con l'acqua alla gola, al culto, così ci possiamo sedere, a stare tranquillo, prima che ci viene data la parola, prima che lo diamo al Signore, perché è importante questo, per il Signore, però se non è importante per noi, non sarà importante per loro, mi fermo là, ok? Ok? E dobbiamo essere coinvolti nelle vidi dei figli, per fare queste cose, questo è coinvolgimento, ok? Poi, la quarta, dobbiamo, dobbiamo evitare, la quarta, versetto 19, guarda, dice, l'uomo della corda violenta, deve essere punito, noi dobbiamo evitare questi tipi di persone, che ci facciamo intimi amicizia, dobbiamo badare bene, chi lascia minzare il nostro cerchio, bene, sacro, di famiglia, se uno è spinto a fare certe cose, no, tu vuoi fare così, ragazzi, devi capire certe cose, evitare gli amicizi malvaggi, poi capitolo 20, ci ripete di nuovo capitolo 20, ascolta il consiglio e ricevete, da quella è la seconda volta che tu lo dici, ascolta e ricevi, ascolta e ricevi, voi ascoltate e ricevete, io ascolto e devi ricevere, è molto importante, ok, questo è il versetto, il versetto 21, il quinto questo, e dobbiamo, dobbiamo riconoscere che Dio regna, che Dio regna, ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussidia, è Dio che regna, infatti c'è un Salmo che dice, la promozione non viene dall'est, dall'oriente e dall'occidente, la promozione viene dall'eterno, è Dio che regna, è la sovranità di Dio, è la cosa più bella che c'è, sapendo che Dio è sovrano, non mi tocca niente, ok, regna Dio, puoi capire che, ok, versetto 22, versetto 22, ciò che rende caro l'uomo è la bontà, è un povero, vale più di un bugiardo, hai capito? qua, dobbiamo capire che è l'amore, l'integrità, che significa integrità? Che significa integrità? E' integro questa persona qui? Integrità significa essere vero, essere vero, essere vero, questa parola sembra che c'è un doppio significato, però mi piace perché, a me, nella mia testa, tutto un pezzo, che si dice tutto un pezzo? Tutto un pezzo, queste ti portano la vera felicità, è l'ultima, versetto 23, che poi è la somma di ogni cosa, dice pure gli scrittori di Ecclesiasti, in capitolo 12, del suo bel libro, dove dice, che è? Dice, l'ultima lì dice, è il temore del Signore, che induce alla vita, chi la ha, si sazia, e passa la notte, senza essere visitato dal male, è il temore dell'Eterno, è il temore dell'Eterno, siete intemorite dall'Eterno? Lo state installando nei vostri figli, nei vostri rapporti con quelli che sono intorno a te? Ti dico una cosa poi, ho finito, ho finito, ho finito, ho finito, vi voglio tanto bene, vi voglio tanto bene, tanto, eh? Posso, eh? Il temore dell'Eterno, eh? Ci deve, ci deve talmente, ci deve talmente prendere, hai capito? Che non paura, non paura, non è paura, ti faccio una domanda, voi conoscete qualcuno in cui tu non vuoi deludere? Non vuoi tu che questa persona possa, possa venire a conoscenza di qualche mancanza tua? Perché tu sai che si viene in conoscenza di questa cosa, non è che ti smette di amare, però sarà, 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 sarà ferita. Così dobbiamo essere con il Signore. Io non faccio certe cose proprio perché non voglio rattestare lo Spirito Santo, non voglio rattestare la sua persona. A molto ne dica ancora una più grossa, perché se mi fermasse qui è, 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 è pregare adesso, tu pensi io devi fare, queste cose, in modo di dire, è una brutta notizia, queste cose qua non ci riuscite mai a farle. Siamo fritti. non ci riusciremmo mai a farle. E se ci riesci avrai il successo mondano, di sicuro. La testa si monda così, l'aurelia si cresce proprio tanto, te la porti pure a casa, dovunque vai. c'è l'unico modo, c'è l'unico modo di fare queste cose, è di appellarti a Gesù Cristo. E dici, Signore, io sono uno miso di riservo, senza di te, senza l'opera tua, che tu hai compiuto, per me queste cose sono ben lontano, però mi appella a te, Signore, perché tu sei il perfetto, tu sei che lui che ha vimpito ogni articolo della legge, hai venuto e si è corso al povero, hai saputo disciplinare i tuoi figli, hai saputo avere il temore di Dio in una maniera perfetta, sei stato tu che hai ascoltato attentamente e osservato la legge, sei stato tu e io mi devo identificare con te. Questa mattina, se Dio ti sta parlando, identificati con Gesù Cristo e Lui il crucifisso, ascolta la voce dello Spirito questa mattina e appela da Cristo finché puoi vivere veramente una vita piena di successo. Dio vi benedica, spero che il nuovo stancato è che Dio possa lavorare nei nostri cuori. Amen. Preghiamo un attimo, ok? Grazie a Padre per la Tua parola, Signore, che ti istruisci poesia, profezia, narrativa, quelle che sia, Signore. Lei parla sempre a noi, parla sempre a noi. Ammettiamo, Signore, che tante di ciò che è nella scrittura a noi a volte suona strano, sembra una campana fuori posto, perché siamo pieni, siamo circondati da suoni, informazioni che sono tutt'altro, Signore. Grazie, grazie per la Tua pazienza, grazie a Gesù che Tu parli e sussurri a ognuno qui, proprio dove Lui si trova, dove lei si trova, in questo cammino, Signore, su questa terra. Tu sai come plasmare, Tu sai come arrivare al dunque, Tu sai smascherare, Signore. E' come il profeta, Signore, Gesù, che piange davanti a Te e dici che la mia testa fosse delle acque e i miei occhi una fonte di lacrime che potesse piangere per gli uccisi di mio popolo. Che in noi possa scaturire, Signore, questo desiderio di stare davanti a Te, piangere le nostre mancanze e appellarci a Gesù Cristo. L'unica fonte di vita, l'unica fonte di gioia, l'unica fonte di successo. Grazie a Gesù. Quanto sei buono Tu, Signore. Non c'è nessuna pari a Te. Nessuna, nessuna, Signore. Strizza i nostri cuori. Strizza i nostri cuori. Amen, Gesù. Nino. Gargi Nino. предe progno di bari i nostri l'unica o Grazie.